Si chiamava Tony E. Grace Billington, era un dolce e meraviglioso bambino di undici anni di età, che era inglese a britannico, e pensate che purtroppo è morto in un pigiama parti davanti a tutti quanti i suoi amici e amichetti più ittimi. La nonna è devastata dal dolore che attribuisce la morte alla sfida social che si chiama croning, è una sfida che ormai da qualche tempo è stata aperta. Il bambino è andato in arresto cardiaco nell'immediato, praticamente, da subito. In cosa consiste questa croning? È una vera e propria sfida social in cui consiste di narrare sostanze di chimica tossica, come quelle delle pernici, come mette, spara e colla, e raggiungendo quindi un livello pieno di assolvazione. Ma l'altra cosa è che infatti spese due interi si vede i piani morti. Beh, come nel caso di questo ragazzino che ha avuto un arresto cardiaco ed è morto. Beh, il video termina qua. A bambino posso dire soltanto che tu, caro bambino inglese, possa riposare in pace da me. Allora. Allora.